Arriva il primo E ancora con il servizio Servizio e dritto Soluzione 15 pari Altra gran prima e altra conclusione Vincente Conin Secondo e Soluzione bellissima questa con il dritto Gran dritto anche della Williams Rimane in campo Splendido pallonetto Dritto vincente Di Sabine Lisitsky Grande rovescio incrociato Nella Lisitsky che è partito a finire Inizio il primo set con la Zang Ace dalla Lisitsky 15-0 Servizio e rovescio vincente Dritto vincente di Venus 0-15 40-30 set point Arriva Il set point Sabine Lisitsky Si aggiudica il primo parziale In soli 22 minuti Col punteggio di 6 giochi Grande risposta di dritto La Lisitsky Impressionante questo rovescio Impressionante Impressionante Come sta giocando la Lisitsky Riesce E il vincente con la risposta di dritto Tieni dentro il campo Gran risposta della Williams in questo caso Rimasta in campo Si sposta ancora sul dritto Si sposta ancora sul dritto Sulla seconda Si scalda il pubblico Che parte con un Ace 15-0 Rimane in campo questa splendida risposta Ace 40-30 Rimedia subito Ancora vincente direttamente con la risposta Per non andare in vantaggio Peccato Smash comunque che non è finito Questa volta la palla corta È un invito Continua a risposta Dritto in avanzamento Ha giocato un discreto punto la Williams Poi sbaglio Ace della Williams Slice Gioca Così anche Avanti 2-0 nel secondo Contro la Zhang Settimo Ace Lisitsky Chiude nei pressi della rete Con il secondo passante Servizio e rovescio Chiude Sabin Lisitsky Batte Venus Williams 6-1-6-2 Si qualifica per il terzo turno Gioca Si grazie